L'importante appuntamento con la quattordicesima edizione di questo evento, Professor Palca, un evento che vuole mettere in evidenza le eccellenze della medicina abruzzese. Sì, è vero. Questo è il quattordicesimo anno. Io credo di aver partecipato a tutti i 14 anni, quindi insieme al dottor Mennucci, all'amico Mennucci e agli altri che hanno contribuito a questo award, chiamiamolo così in inglese, molto molto importante perché è molto conosciuto. E poi anche perché da questo si è differenziato l'altro che facciamo in autunno, cioè il premio Medicina Italia, in cui saranno premiati in questa giornata i nostri cari medici abruzzesi che meritano questo premio, mentre in autunno, a dicembre, premiamo invece a livello medico e a livello italiano. Appena da un anno il comitato scientifico si è, per così dire, inserito. Quindi dobbiamo ancora mettere bene a posto l'ingranaggio per dare un risalto, diciamo così, sempre maggiore a questo premio abruzzese. E quindi ci lavoreremo a partire già da questi giorni perché si faccia e si conosca anche meglio questo comitato scientifico perché ci sono due rettori, ci sono il professor Crescente e il professor Di Iglio, io che sono genetista, il professor Vacca che è stato preside della facoltà di farmacia e il professor Battista, un altro glorioso della facoltà di medicina. Quindi dobbiamo, insomma, con questo comitato dare un improvement a questo award.